ciao a tutti oggi siamo qui per recensire Wix. Wix è uno dei più conosciuti editor e builder semplici da usare che troviamo online è uno di quelli forse più conosciuti in assoluto come tanti altri sistemi di questo tipo permette di utilizzare dei template modificabili e pubblicabili senza grandi grandi problemi nessun trucco è gratis si se pubblichi su un sottodominio è gratis se vuoi delle caratteristiche premium e un gancio a quello che è un dominio di secondo livello come sempre succede in questi casi c'è un pagamento di un abbonamento gli abbonamenti sono ben definiti qui apprezzo il fatto che siano direttamente visibili non peggio non tutti lo fanno diciamo che ci sono alcune cose che lo dico subito non mi convincono un granché ad esempio connettere il domenio il proprio dominio per avere 500 mega di spazio una serie di limitazioni e in più avere una pubblicità è un modo per dire non comprare questo compra subito qualcosa di più grosso insomma perché sinceramente 50 euro l'anno grosso modo per avere un sito con limitazioni e in cui viene pubblicata della della pubblicità mi sembra sinceramente una cosa che non sta né in cielo e né in terra detto ciò le varie situazioni che ci sono le devi valutare te non posso certamente essere io a valutarlo in base alle tue specifiche esigenze io direi di andare direttamente a vedere quelli che sono di base i template eccoli qui che poi li troviamo anche all'interno dell'account sono ovviamente divisi per categorie e sotto categorie questa è una cosa interessante non facciamo altro che andare a vedere o modificare le singole le singole situazioni in questo caso noi andiamo su immobiliare qui ci sono tutta una serie di di template come vedi quelli che sono gratis viene evidenziato che sono quelli gratis poi andando avanti si troveranno quelli ovviamente anche a pagamento che fanno parte della serie premium ne prendiamo uno a caso questo qua donald harris come si chiama eccolo qua modifica questo sito devo fare ovviamente il login e andiamo all'interno in modifica una volta che entriamo avendo fatto il login eccoci qua questa è la schermata tutti gli strumenti sono a portata di mano a differenza di altre soluzioni anche questo permette questa modalità permette di di modificare direttamente ogni singolo aspetto dalle immagini al testo il menu stesso la gestione del menu con il drag and drop creando direttamente i sottomenu modificando duplicando le pagine come se fossero dei sottodomini ad esempio insomma da questo punto di vista è abbastanza ben fatto diciamo che eccoci qua ci siamo come vedi in questo caso poi potrò andare a vedere quello che è il l'operazione che ho fatto impostazione transizione di pagina orizzontali verticali tutti i tools lateralmente ci sono alcuni tools che saranno apprezzati da quelli che sono già un pochino più esperti ovvero sia la possibilità di andare a modificare manualmente alcuni aspetti avendo dei riferimenti immediati come vedete io quando quando muovo questo lateralmente in questa zona qua appare il contatore e la stessa cosa mi appare qui sia come dimensione sia come posizione posso andare a modificare ad esempio a mano alcuni alcuni parametri vedi li posso andare a modificare direttamente da qui e questo sicuramente è una cosa che verrà apprezzata da coloro i quali preferiscono inserire i propri dati manualmente rimettiamo i 980 per avere il riferimento per il resto cosa abbiamo abbiamo la possibilità di modificare il nostro sfondo come accade in altri tipi di situazione mettiamo questo qui che può essere utile per un discorso per il nostro caso eccolo qui ovviamente parliamo sempre di un test veloce giusto per farvi vedere come è che funziona il tutto dopo aver impostato lo sfondo posso aggiungere tutto quello che voglio quindi immagini gallerie i riquadri insomma praticamente i tasti che ovviamente noi chiamiamo bottoni ma insomma giustamente i tasti ce ne sono di vari tipi e genere come vedi questo ti permette di poter inserire quello che è un tasto in maniera veloce dove vuoi tu e senza nemmeno eccolo qui oppure tieni clicca qui oppure aggiungere un link a quello che voglio io e lo posso mandare un indirizzo web lo mettiamo a google ecco nuova finestra finestra corrente fatto e abbiamo già fatto abbiamo già impostato questa cosa e la posso inserire dove dove voglio posso andare a ridimensionare al volo questo tipo di situazione eccolo qui posso impostarla addirittura su una su un'immagine insomma posso fare veramente diverse cose e ovviamente tutto ciò che riguarda il testo tutto ciò che riguarda la modifica del testo è in real time posso scegliere fra le modalità quindi scegliendo i codici direttamente e mi viene detto come saranno impostati ad esempio un h1 a 65 pixel in questo caso dovrei andare poi a ridimensionare questo tipo di situazione andarlo a chiudere eccolo qua per per reimpostare un po il tutto però il tutto è effettivamente molto molto semplice e molto immediato come puoi vedere posso anche applicare una serie di effetti simpatici a patto di non esagerare chiaramente da questo punto di vista come ad esempio uno sfondato che mi dà questo sarebbe il classico emboss diciamo che mi permette di dare una certa importanza al tutto posso anche ovviamente impostarlo qua sopra tutti i vari effetti la dimensione del carattere il riempimento rividenziato insomma tutto molto abbastanza semplice posso cambiare la visualizzazione dell'editor per il desktop o per i dispositivi mobili e ovviamente il fatto di poter visualizzare direttamente come apparirà il mio sito sul dispositivo mobile è comunque una cosa abbastanza abbastanza interessante chiaramente non è che possiamo andare a personalizzare chissà mai che cosa però diciamo che è già un grosso un grosso aiuto almeno per le cose di base abbiamo la possibilità di salvare abbiamo la possibilità dell'anteprima eccolo qua chiaramente ho modificato in maniera grossolana quello che è la parte dello sfondo quindi è una cosa bruttissima però giustamente serve solo per capire che hai la possibilità di avere un'anteprima in tempo reale molto molto veloce come vedi questo sfondo aveva anche un video come come base di background torno all'editor e dico ok voglio cambiare lo sfondo e voglio soltanto mettere un discorso di colore ok mettiamo un colore grigio siamo a posto direi di utilizzare soltanto soltanto questo facciamo un'anteprima e abbiamo un'anteprima sicuramente migliore rispetto a quello proprio che sono riuscito a fare poco prima ovviamente in questo caso possiamo anche andare a verificare quello che è la modalità cioè scusa tutte le funzioni dinamiche tipo ad esempio quelle del del menu ti ricordi che abbiamo un modificato questo abbiamo fatto un sottomenu e come vedi è eccolo qui eccolo operativo senza nessun tipo di problema la modalità dei contatti eccetera eccetera quando sono soddisfatto del mio risultato posso andare a salvarlo e ovviamente me lo darà con il mio nome utente punto vix.com e poi dovrò dargli ovviamente un nome oppure collegare il mio personalizzato che chiaramente è una delle funzioni a pagamento allora cosa mi piace di vix mi piace che l'interfaccia è molto molto ben fatta sicuramente è dinamicamente reattiva quindi nel senso con questo intendo dire che diciamo si può andare a lavorare in maniera abbastanza facile sulle singole operatività sempre dalla singola schermata diciamo che mi piacciono molto i tools che sono messi lateralmente perché come ho detto prima permettono anche la modalità di di andare a modificare alcune parti un pochino più sensibili alle modifiche più avanzate ho la possibilità di andarla a mostrare su tutte le pagine anziché no perché magari in alcune pagine c'è soltanto una parte testuale quindi non mi interessa di avere tutte questa questo tipo di situazione il drag and drop è ovviamente sempre quello che tutti noi conosciamo come vedi c'è la possibilità di applicare gli sfondati le trasparenze e spostare i livelli da una parte all'altra eccetera eccetera insomma è sicuramente un buon prodotto anzi un ottimo prodotto da questo da questo punto di vista e anche per questo probabilmente è anche questo che ne ha determinato diciamo un po il suo il suo successo no da questo punto di vista qui come vedi io sto modificando mentre sto parlando proprio al volo in tempo reale quello che potrebbe essere il dominio da questo punto di vista e come vedi l'ho potuto fare veramente in un batter d'occhio diciamo che ecco io qui per dire ho limitato il tutto vado in anteprima e mi ritrovo una cosa sicuramente più facile da utilizzare che mangia meno spazio che dire buon prodotto sicuramente facile da usare pubblicità invasiva ma fino a un certo punto diciamo da questo punto di vista anche qui come in tutti gli editor di questo tipo c'è comunque bisogno di farci un po di pratica perché per la persona assolutamente non in grado troverà comunque un minimo di difficoltà il discorso dell'upgrade il discorso dell'upgrade come abbiamo già detto chiaramente è chiaro che va valutato in base a quelle che sono le tue esigenze indubbiamente puoi avere tutto ad un prezzo diciamo tutto sommato contenuto ma diciamo anche che non è secondo il mio modesto parere il più economico in assoluto che offre cose di questo genere la cosa interessante che ti volevo far vedere è che quando sei all'interno e hai fatto un sito come vedi se io faccio l'upgrade hai la possibilità di accedere al 50% di sconto non so dirti se questo è sempre disponibile o meno ma presumo più o meno di sì e ad esempio come vedi il famoso connect domain rimane a 4 euro mese che è una cosa ripeto improponibile cioè l'hanno messo proprio per non fartelo comprare però per contro ti danno la possibilità di andare a 6-8 euro al mese avendo tutto ricordati comunque che parliamo di situazioni in cui puoi mettere un solo dominio un solo sito lo puoi cambiare migliaia di volte puoi avere quante pagine vuoi e funzionerà sicuramente bene ma ricordati che avrai comunque sempre ed esclusivamente un sito unico se la tua azienda ha due o tre tipi di prodotto che devi pubblicizzare o servizi o quello che ti pare che devi pubblicizzare con tre brand diversi ti occorrono tre pacchetti diversi e devi andare a gestire tre pacchetti diversi questo chiaramente è una cosa che deve essere valutato dalla persona ma generalmente chi utilizza questo tipo di servizi lo usa esclusivamente per situazioni monosito piccoli siti vetrina o cose comunque di approccio iniziale a quello che è il web ovviamente però questo non significa che tu non possa ottenere dei risultati interessanti e graficamente piacevoli come quello che abbiamo appena visto in questa demo ok è tutto per la recensione di Wix trovi la mia tabellina con i giudizi se così possiamo dire in fondo a questa recensione io ti saluto ti ringrazio e ci sentiamo alla prossima ciao